è di là il confine c'è la nostra salvezza c'è la nostra salvezza Sì, 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 sì. Per una giornata così fredda, è fondamentale reintegrare le proprie energie. Per questo ho scelto cioccolata novi con latte extra fino. Nocciolati novi con le superbe nocciole intere delle nostre colline. Novi, il grande cioccolato italiano. Non c'è tempo di finire di mangiare. Sei ferito? Ti hanno sparato la gamba. È profondissimo. Lo so che non dovete andare. Dovrò fasciarmela in qualche modo. È l'unico modo per tamponare la ferita. Non avendo stracci. Lo vedete anche voi. Menzo agli alberi c'è un cerchio. No. 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 No Che cosa è successo? Sono morto Incredibile Sono salvo Avevo la gioco pistacchiella con me Mi ha salvato Grazie Cioccolata al latte nuovo Incredibile Mi ha salvato la vita di voi Sta cioccolata Non la dovrò mai perdere per nessun motivo Bene Bene E' solo un modo per fermare i soldati nemici Pfff Tu avvi nemico Ho sbagliato telecoman Perchè 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 Ah, no, 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 no. se lo salvo per via devo arrivare alla mia attrezzatura e fuggire quella là, quella è la mia terra, sono fuggito qui dalla guerra, ma la guerra è anche qui, la guerra è ovunque, la guerra è dentro di noi la guerra è solo una pistola d'entrata, ricorda spizzero? no, vuoi? mmm, questo è spizzero? no, novi chi ha detto che il buon cioccolato è... novi, alta qualità europea, prezzo europeo